Quarta corsa premio Gator Bowl, un doppio chilometro di inseguimento allo start a 6 cavalli di categoria G, Raul Fermi, New Dream Rex, Solentu Frente, Shelf for Run, Ora Pronobis, Etterio di Gauge, a 20 metri 2 cavalli di categoria F, Ugo Peres, Shodika 6, a 40 metri, 2 cavalli di categoria E, Trainer B e Ultramar B. Convalidato il primo segnale, con dall'esterno Ora Pronobis che cerca di scendere alla corda nei confronti di Shelf for Run, terza posizione per New Dream Rex, Shelf for Run ha respinto Ora Pronobis che si accoda davanti a New Dream Rex, Raul Fermi, Solentu Frente, Poi, Teoria di Gauge, Ugo Peres, Shodika 6, a largo, Ultramar B che ha il girato meglio di Trainer B, allunga e prende vantaggio, Shelf for Run, Mentre New Dream Rex ha anticipato la mossa di Solentu Frente e sfrutta ora l'errore di Ora Pronobis per sfilare in seconda posizione, terzo è Raul Fermi, mentre Solentu Frente ripiega quarto, Sta cercando di imporre ritmo sostenuto alla corsa il battistrada Shelf for Run che ha completato il mezzo miglio iniziale addirittura in 59,6 con partenza da fermo ed è per quello che i penalizzati non riescono a risalire, Addirittura c'è un primo giro in 1,14 e mezzo da parte di Shelf for Run nella scia del quale si mantengono saggiamente New Dream Rex, Raul Fermi e Solentu Frente, Poi Ultramar B che ora si profila in quarta posizione e insiste a largo, Ugo Per invece costringe in terza ruota Trainer B, si affaccia a largo New Dream Rex, lo segue Raul Fermi, Si avvicina ai primi anche Ultramar B perché ora comincia a farsi sentire la stanchezza, Shelf for Run si arrende dopo aver imposto andatura vertiginosa, New Dream Rex è passato ma è sollecitato con decisione da Alessandro Cocciadoro, Raul Fermi che rimane nella sua scia, Ultramar B è all'esterno, Poi ancora Ugo Per e Trainer B, poco prima dell'ingresso in retta Raul Fermi che anticipa le mosse di Ultramar B e prova ad andare su New Dream Rex, Raul Fermi che attacca New Dream Rex, Ultramar B che non riesce a concretizzare l'aggancio, prova ad unirsi Ugo Per, lotta nel New Dream Rex e Raul Fermi davanti a Ultramar B che è attaccato da Ugo Per, insiste Raul Fermi, sopravanza di misura New Dream Rex che però non si dà per vinto, rientra sul palo i due perfettamente apparigliati, mentre Ugo Per batte Ultramar per il terzo, fotografia micidiale tra Raul Fermi, Alessandro Lezzo e New Dream Rex, Alessandro Cocciadoro, vediamo se le immagini del replay possono venirci in aiuto, sul mio chilometro c'è un, abbastanza clamoroso, 2.31.6 per gli ultimi 2.000 metri che per i due dello start significa media di 1.15.8, è per quello che Ultramar B, la favorita, a dare 40 metri avrebbe dovuto fare davvero un numero sensazionale per riuscire ad acciuffare entrambi. vedete qua New Dream Rex è rientrato a Raul Fermi che però in vista del palo ha ancora un guizzo, vedremo i tempi del tratto, ma Raul Fermi all'esterno, è Raul Fermi all'esterno con Alessandro Lezzo che piega New Dream Rex al terzo posto Ugo Per, 1.27 l'arrivo ufficioso della quarta di Capannella. Grazie a tutti.